L'Inter oggi deve vincere, deve vincere, d'altronde se tu hai l'obiettivo di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, vabbè Champions no, ma campionato e Coppa Italia devi vincere ogni partita, ogni partita che giochi la devi vincere, se non la vinci è un passo falso. Poi la stagione è ancora lunga, io ricordo che prima del derby di andata l'Inter era a 7 punti dal Milan, alla fine del derby di andata l'Inter è rimasta a 7 punti dal Milan, meno 7, oggi si ritrova con un derby perso a più 1 con una partita in meno, quindi non è sempre obbligatorio. Chiaro è che bisogna capire la condizione della squadra, perché la squadra vista nell'ultimo periodo, metti la partita con il Venezia, metti il secondo tempo con il Milan, non è sembrata l'Inter brillante di novembre e dicembre, c'è sicuramente qualcosa su cui riflettere. Diciamo che la trasferta di Napoli è... no, non per loro, per il campionato sia decisiva. Decisiva forse, no, nel senso che però insomma, molto molto importante, però ti dico che se Napoli vince, se Napoli vince, diventa una bella pretendente per lo scudetto. Anche se Napoli non perde, rimane lì, io... Sì, ma voi non considerate questa partita con Bologna, per cui va bene. Con una vittoria, Napoli diventa una pretendente per lo scudetto. Anche se noi consideriamo, ti diamo per buona la partita con il Bologna, quindi diciamo, la Juve ha 4 punti, l'Inter ha 4 punti di vantaggio sul Napoli e sul Milan. Milan, diciamo. Beh, se il Napoli rimane a 4 punti dall'Inter... Ma non ce l'ha più per lo scontro di letto da giocarsi. Ho capito, ma mancano tante partite. L'Inter ha la Champions, il Napoli è una squadra forte, completa. L'Inter ha la Champions, per due partite. Ecco, quella classifica, ringrazio la Lugia. Non la vedo così facile con l'Inter. Ma l'Inter è una partita, il Liverpool è il favorito, ma l'Inter... Ma se abbiamo detto che dalla partita con la Lazio, quella del derby, non ha più perso una partita. Perché adesso, da qua alla fine del campionato, nelle partite in medio... Perché quando entri, perché se subentra... Ma non è che devi perdere tante. Il calcio, il se, non è che è importantissimo, però sono ipotesi che devi fare. Se subentra una crisi, a quel punto tutto qualunque cosa può succedere. Non solo, ma la crisi deve perso una partita. Non solo, ma... Non è che 4 punti, poi sono 8 sconfitte, 4 punti sono 2 pareggi. Se pareggi due volte e il Napoli vince, il Napoli è a pari. No, ho capito, ma... Allora, è cominciato la partita, come è stato accolto Murigno? Molto bene, applausi ovviamente di tutto San Siro, Boati, qualche striscione. Murigno ha ringraziato, mandando baci ai vari settori dello stadio. Ora la partita è giunta al 47esimo secondo, con l'Inter in possesso palla, con Vidal che dà indietro a Skriniar, che oggi fa il centrale, di solito è spostato a destra, ma oggi in quel ruolo gioca D'Ambrosio, lui gioca in mezzo al posto di De Vrij, ruolo che ha già ricoperto. Ora attenzione che l'Inter è nella propria area di rigore con Andanovic, pressing, attenzione Vidal ancora Andanovic all'indietro, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, Sanchez si aggrappa a Mancini, non commette fallo, ma neanche Mancini commette fallo e quindi si va avanti con la palla alla Roma in zona difensiva con Smolling, regista difensivo che allarga per Mancini, tre quarti difensiva di destra, aspettano i due attaccanti nero-azzurri, non affondano il pressing e quindi ancora Roma in possesso. Dimmi tu se mi devo fermare oppure no. No, adesso volevamo fare una valutazione di primi secondi, però prima dobbiamo fermarsi per un altro motivo. Allora Filippo, se vuoi abbiamo ancora un minuto. Va bene, Perisic sulla sinistra, attenzione che c'è spazio per il Croato per andare fino in fondo, arriva il cross in mezzo, Smolling, Edir, Dzeko, 1-0 per l'Inter, torna il gol, il cinghio di Sarajevo, cross dalla sinistra di Perisic, arriva Dzeko con il piattone a mettere sul pallo dove non può arrivare Rui Patricio, 1-0 per l'Inter già al secondo minuto di gioco, heading Dzeko, buona l'azione con l'ottimo passaggio di Sanchez di testa per smarcare sulla sinistra la corsa di Perisic. Perisic arriva sul lato corto dell'area di rigore, vede in mezzo Dzeko, gli dà una palla perfetta e Dzeko col piattone, la butta alle spalle di Rui Patricio, 1-0, iniziamo bene, bravi ragazzi, dai, dai, su. Smolling rivedibile qua, ho visto che Mou applaude, ma spiegate che c'è. Io direi che possiamo andare in pubblicità, pochi minuti torniamo con voi, restate con noi. Dai. Mou, traversa, traversa di Barella, tiro dai 25-30 metri, spostanti sulla destra, una sassata di Nicolò Barella, la palla va sulla traversa, Inter vicinissima, il gol del 2-0, mamma che sassata di Nicolò Barella, un tiro bellissimo, in diagonale, di destro pieno, collo pieno, palla che va sulla traversa e rimbalza poi dentro il campo, Inter vicinissima al 2-0 con Nicolò Barella. Forma la Roma, eh? Eccoci tornati, eccoci tornati. Allora, un inizio molto arremmante dell'Inter, mi sembra che questa idea di Mourinho, di aggredire l'Inter altissima, lascia un certo movimento nel centrocampo dell'Inter che ha molti uomini liberi. Beh sì, finora l'Inter è uscita molto bene, mi sembra che abbiano cominciato la partita anche molto convinti, molto cattivi, evidentemente quello che diceva Max sta succedendo, cioè l'Inter sta giocando questa partita con una grande voglia di riscatto dopo il derby perso e la Roma è in evidente difficoltà. Allora, una difficoltà... Io volevo sentire il parere di Claudio. Ah, ma guarda, sono due tattiche diverse. Perché sorridi, Max? No, io mi sono guardato anche Genoa-Roma dove praticamente uno 0-0 scritto dove la Roma non riusciva a creare palle e goli importanti e questa sera fa l'opposto, cerca come diceva Stefano di pressare alto ma il risultato vedo che è lo stesso. Diciamo che la Roma non è in una grande forma, diciamo così. Beh, bisogna dire che è da molto tempo che non è in una grande forma. C'è il miglior allenatore in circolazione, scusami. Torniamo da Filippo. Vidal lancia a cercare lo scatto di Perisic sulla sinistra. Perisic contro Kasdrop lato cortellare di rigore. Lottano i due. Perisic difende palla. C'è il raddoppio di Zaniolo. Allora Perisic saggiamente aspetta Vidal e gli dà la palla all'indietro. Ancora il cileno in orizzontale a cercare Barella dall'altra parte del campo. Barella tra le linee per Sanchez che prova un velo. La palla non passa ma ritorna ancora in possesso l'Inter con Darmian che scambia con D'Ambrosio. Ancora Darmian indietro per Brozovic. si alza il pressing di Mkhitaryan. Vicino all'out servito ancora Darmian. Si butta nello spazio Barella. Pallone ancora però all'indietro per Brozo. Brozo a Vidal. Attenzione a non perdere lì. Ottimo il pallone di Vidal. Colpo di tacco di Barella. Poi grande lancio di Sanchez. Al volo per Darmian. All'indietro per Barella. Barella limita l'area di rigore. Si gira. C'è il pressing di Vigna. Ancora Sanchez. Trova un corridoio perfetto per D'Ambrosio che ruba palla a Vigna. Attenzione. Fallo. 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 E dai. Punizione per l'Inter. Fallo di Vigna su D'Ambrosio che chiede anche un cartellino giallo. Effettivamente. Insomma stava andando in area. Viene travolto. Secondo me il giallo ci potete stare. Un lascio californiano gli ha fatto. Un lascio californiano gli ha fatto in wrestling. Intanto rivediamo il destro bellissimo di Barella. Mamma mia che bello. Traversa piena. Bellissimo il destro di Nicola Barella. Sai cosa fa bene la Roma? La fase difensiva. Attenta. Tu stai discisa. Attenta, concentrata. Si aiutano. Il problema della Roma di questi primi minuti non viene dalla fase difensiva viene dal centrocampo che lascia troppo esageratamente diciamo dei varchi. Sanchet sul pallone siamo praticamente mezzo metro fuori dall'area di rigore lato corto destro dell'area di rigore lato corto sinistro attacco destro dell'Inter due uomini in barriera ma sono praticamente al limite dell'area piccola Sanchet sul pallone con il destro arriva il cross morbido di Sanchet e Skriniar trova lo spazio per incornare in mezzo alle maglie bianche della Roma non riesce però ad angolare la traiettoria la palla arriva facile a Rui Patricio lancio lungo subito del portiere portoghese recupera però palla l'Inter già in fase difensiva con Barella e vediamo Barella che prova ad andare via ad Ebram poi guadagna la tre quarti centrale serve Vidal che allarga tutto sulla sinistra per Perisic Perisic contro Kalsdrop lo punta ancora Perisic palla sul destro doppio passo prova ad andare fino in fondo Perisic la fa Rival Cross il colpo di testa di Dzeko e ancora la parata di Rui Patricio ma Roma è imbarazzante è imbarazzante Cioè che caso non sa che Perisic va sul fondo e la mette di sinistra no ma ogni azione è un pericolo incredibile carità sarà anche merito dell'Inter però la Roma mi sembra cioè sei senza parole Stefano allora secondo voi è l'irruenza dell'Inter oppure diciamo la Roma è partita molto male sono tutte e due sono tutte e due però per concedere così tanto in così pochi minuti francamente la Roma è veramente imbarazzante si è passati nove minuti ha avuto tre o quattro occasioni un gol su un incrocio dei pali due parati del portiere cioè adesso sembra veramente una squadra strana allora se vogliamo trovare un difetto ma in questo caso il difetto è puramente numerico diciamo l'Inter come spesso gli è accaduto in questo campionato non raccoglie per quello che produce vabbè anche nei primi dieci minuti ho detto non è un difetto perché oggi sta facendo il suo in nove minuti hai fatto un gol e l'altra versa però c'è questa volta senti ma quando è che la recuperano col Bologna si sa ancora non è stato stabilito tra parentesi c'è un ricorso quindi non è una questione corso per l'Inter corsi ricorsi insomma allora mi sembra un soliloquio dell'Inter sì ma siamo solo all'undicesimo le partite durano 90 e gli episodi cambiano l'abbiamo visto nel derby ora D'Ambrosio all'indietro per Andanovic l'Inter è partita sicuramente molto bene la Roma è un po' spaesata la Roma non è mai partita c'è rimasta però siamo solo all'undicesimo minuto ragazzi io ripeto Andanovic e si è 1-0 Andanovic l'area piccola alza la testa prova il lancio a cercare Skrini era un lancio non facilissimo per fortuna Skrini era spazio per addomesticare un pallone non facile ora Peresic di prima per Sanchez che si può girare c'è spazio Sanchez prova un lancio per Barella che è buono ma secondo me poteva guadagnare tempo in maniera diversa ora Darmian sulla destra l'alto cortellare di rigore va a puntare i Bagnets prova il dribbling c'è il raddoppio guadagna un fallo laterale l'Inter con Darmian tutto pronto per la rimessa con le mani dodicesimo di gioco Inter in vantaggio 1-0 gol di Dzeko al secondo minuto ancora Darmian aspetta il movimento dei compagni serve Sanchez che si libera bene serve ancora Darmian scambiano i due ancora Sanchez prova a guadagnare un fallo laterale con un rimpallo non ce la fa ma ancora l'Inter con D'Ambrosio lancio sul secondo pallo Per Peresic che prova a mettere il pallone in mezzo chiede un corner che non credo ci sia infatti è così rimessa dal fondo per la Roma Allora continuo questo predominio dell'Inter mi sembra la Roma imbarazzante perché non è riuscita mai a superare il centrocampo era partita con un pressing diciamo molto alto e durato un minuto e mezzo già ha cominciato a tirarsi un po' indietro e a rinunciare anche al pressing iniziale mi sembra ti aspettavi proprio l'opposto sì io mi aspettavo che la Roma facesse valere la sua determinazione in una partita che ripeto per la Roma è una partita molto molto importante noi dobbiamo andare in pubblicità pochi minuti torniamo da voi eccoci tornati torniamo da Filippo punizione per la Roma Olivera mette il pallone dentro l'area di rigore colpo di testa di Mancini no Mancini in mezzo di Bagnes palla sull'esterno della rete però la Roma adesso è assolutamente in partita rispetto ai primi 10-12 minuti adesso la Roma è in partita l'Inter ha calato molto il ritmo è abbastanza imprecisa la Roma ha capito che ci possono essere delle crepe nella trama di gioco dell'Inter e quindi aggredisce e ha creato un paio di problemi mica da poco alla difesa dell'Inter tra parentesi dopo i primi 10 minuti l'Inter non ha più tirato in porta la Roma invece insomma ci sta provando no no è vero la Roma ci sta provando ci sta provando soprattutto anche Zaniolo mi sembra anche se poi lui è molto testardo forse deve effettivamente cominciare a giocare un po' più con gli altri cioè ti sembra un po' più un atteggiamento egoista solitario dai fatevi vedere sì a volte secondo me lui dovrebbe giocare un po' più con i compagni e invece un po' educato più per la squadra più per la squadra più con la squadra più con la squadra ci vorrebbe una squadra che lo educa vuoi dire ci vorrebbe un amico no ma tra l'altro in questi casi non l'avevo fatto caso parlando con l'avvocato ma si rischia o un derby di Roma o un derby di Milano in semifinale beh sì oppure nulla di tutto ciò certo però si rischia un derby di Roma o un derby di Milano eh come la vedi la partita di domani del Milan è anche lì una partita importante secondo me per lo stesso motivo dell'Inter dobbiamo dare continuità alla vittoria nel derby quindi secondo me bisogna andare a vincere quella partita lì per dare continuità Zaniolo Zaniolo tre quarti centrale allarga può salire la Roma con Vigna ancora all'indietro per Smalling e non riusciamo a uscire cioè prima Sanchez ha già dato una palla sulla corsa non ha avuto il passo ha perso il pallone ancora la Roma con Zaniolo che perde palla attenzione che può ripartire l'Inter con Sanchez ripartiamo bene Sanchez per favore salta bene Olivera guadagna la tre quarti della Roma in avanzamento trova il corridoio per Barella attenzione alla chiusura di Bani e si addormenta Barella che ruba palla però anche qua Barellino si è un po' addormentato riparte la Roma però riparte male recupera palla l'Inter con Vidal va a trovare Sanchez Sanchez ancora per Barella di prima per Vidal subito per Darmian buona l'azione poi Darmian sbaglia l'ultimo tocco per Geco rimedia Mkhitaryan in corner corner per l'Inter che torna comunque ad affacciarsi dalle parti della porta difesa da lui Patricio ora Bani rimane a terra si tocca il ginocchio sinistro speriamo non sia niente di grave per il difensore della Roma però è a terra dolorante il numero tre della Roma intanto rivediamo la scivolata su Barella poi va a terra da solo mi pare Bani forse nello scontro con Darmian no no ma non c'è credo non ci sia uno scontro credo che lui allunghi cioè passi il pallone allungando un po' la gamba e poi va da terra da solo adesso rivediamo se ci sarà un replay speriamo ma secondo me è caduto da solo appoggia il piede che affonda nel terreno e si gira quindi movimento innaturale della caviglia sicuramente è una distorsione alla caviglia bisogna capire poi di che entità è uscito Bastoni è entrato De Vrai quindi Skriniar scala a sinistra De Vrai va in mezzo ed Ambrosio rimane a destra però speriamo che non sia niente di grave ecco speriamo assolutamente allora da come abbiamo visto tutti i giocatori Capanello intorno a lui insomma e e il fatto che lui non poggiasse il piede insomma può farci ipotizzare che la distorsione è una distorsione di una certa identità poi insomma Vidal perde un altro pallone in mezzo al campo attenzione a Mkhitaryan Mkhitaryan va a cercare il corridoio per Karstrup bravissimo Perisic sì ma Vidal ragazzi Vidal è in condizioni da non rivedibili di più cioè non tiene un pallone non costruisce un'azione è sempre in ritardo sui contrasti li perde tutti santo cielo in versione bagnoschiuma Claudio ma tornando al discorso di prima perché hai sviato la domanda che ti ha fatto Maurizio cosa ho sviato? che domanda l'hai sviato? io gli avevo detto se aveva dei rimpianti per l'inizio di stagione della Juventus no purtroppo devo dire di no perché comunque bisogna contestualizzare cioè viviamo una settimana in cui la Juventus gioca la prima a Udine dove stradomina dove la finì 4-0 il primo tempo per due sciocchezze finisce 2-2 non la vittoria a Ronaldo Ronaldo dopo 4 giorni saluta e quindi insomma l'inizio è stato un po' quello lì per cui ci ha voluto poi visto che tutti parlano di infortuni ricordo che alla terza Napoli e Juve ho giocato senza 8 titolari sì va bene siccome tutti si lamentano e noi mai tu mi parli delle prime 4 c'è anche quella partita la quarta è con loro che ho dominato per 70 minuti e poi è finita 1-1 visto che c'è gente che parla di dominio Max perché sorridi? capita no no perché c'è cartellino giallo per Mourinho tu ognuno ha infortuni che è tu ognuno ha infortuni ma puoi dirlo anche tu scusate torniamo un attimo da perché ha preso questo cartellino giallo? proteste per un fallo fischiato a Mancini che a me sembrava abbastanza giusto e proteste alla fine di Bello ha deciso di estrarre il cartellino giallo per la natura della Roma siamo al 46esimo e 47 secondi manca 1 minuto e 10 secondi alla fine del primo tempo perché sono stati 3 i minuti di recupero concessi da Di Bello sempre 1 a 0 vediamo l'Inter ora sulla destra in avanti sbaglia D'Ambrosio recupera la Roma Sergio Oliveira ancora lui si gira poi si trova di fronte lo stesso D'Ambrosio che prova a dare fastidio a recuperare il pallone perso Smalling 50 secondi alla fine del primo tempo Mancini pressato da D'Ageco pallone all'indietro ancora Smalling cambia tutto sulla destra va a cercare Ibanez che mi pare si sia ripreso abbastanza bene ancora Veretou allarga tutto sulla destra ancora per Mancini lancio lungo a cercare lo scatto di Zaniolo mi sembra un pallone impreciso bravo Skriniar a tenere il fisico su Zaniolo poi serve Brozovic di prima per Vidal oh mamma mia poi Brozovic allarga sulla destra per Darmiance spazio per Barella pallone un po' lungo ma Barella ci arriva prova ad andare via Ibanez c'è il raddoppio bravo Barella ancora il lancio dall'altra parte cercare Dzeko Karlsdrop sfiora allunga la traiettoria la va a recuperare Perisic ultimi 5 secondi di gioco Perisic può puntare l'area di rigore salta l'uomo arriva il cross di Perisic e in mezzo Smalling di testa mette fuori Fischia Di Bello la fine del primo tempo 1-0 per l'Inter gol di Dzeko al secondo minuto di gioco allora era cominciata con un Inter arrembante che sembrava poter dominare la partita ma la partita poi si è assestata dopo tante occasioni per l'Inter la Roma ha reagito poteva pareggiare in più di una circostanza e il tiro tempo finisce 1-0 che cosa ne trai diciamo da questi primi 45 minuti di gioco come considerazione? che l'Inter ha il suo modo di giocare e continua a essere fedele a quello non so perché ha tradito questo modo di giocare nel secondo tempo del derby però però una volta che fa gol poi non spinge più per cercare il secondo ha provato a gestire una Roma che attaccava prende poi i riparti il problema è che noi non abbiamo contropiedisti cioè non abbiamo Lukaku e Hakimi non ce l'abbiamo più lo potevamo fare l'anno scorso ma le ripartenze senza due giocatori con quelle caratteristiche ci riescono difficili per i miei 10 minuti però hai fatto 4 palle e gol in 10 minuti poi la parola dura 45 no l'1-0 sembra che non ha avuto altre palle e gol per i miei 10 minuti potrebbe fare 4 beh ha avuto il tiro da fuori di barella e poi i due colpi di testa due colpi di testa abbastanza comodi non colpi di testa quello che dico io cioè il colpo del tiro da fuori di barella e poi quei due colpi di testa che potevano essere sfruttati meglio forse sì no soprattutto quello su calcio d'angolo sì quello di Skrini è stato abbastanza clamoroso perché l'ha messa in mano al portiere lì se l'angolava un po' da come è saltato sarebbe stato l'altro libero di saltare Margo però possiamo dire che se l'Inter doveva fugare i dubbi cioè circa il derby cioè di aver assorbito il colpo del derby tutto sommato questa partita insomma non lo sta facendo perché è vero che l'Inter attratti è l'Inter di sempre ma anche Maurizio non è che nelle partite gli avversari non esistono eh cioè non è che si può pensare che gli avversari non esistano nelle partite ha fatto i primi 15 minuti in cui poteva fare 3 gol poi piano piano cioè la Roma continuava così perderà 10 a 0 abbiamo anche detto che la Roma era imbarazzante la Roma non è rimasta imbarazzante per tutto il primo tempo è stata imbarazzante per un quarto non lo sa però dicevo prima Claudio che in effetti non è che è la Roma che è cresciuta cioè sono stati gli errori dell'Inter che hanno fatto ricrescere la Roma capito non è che dice la Roma ha preso il sopravvento ha cambiato ritmo ha cominciato a giocare meno peggio ha cominciato a giocare meno peggio la Roma diciamo a sbagliare un po' meno a pressare un po' meglio dietro nel primo quarto d'ora dietro è stata davvero incredibile secondo me il leitmotiv con la partita del Milan è questo che è chiaro che per 70 minuti l'Inter è stato che ha dominato dopodiché ha abbassato un po' il ritmo e ha fatto prendere e sbagliando ha fatto prendere anche al Milan fiducia capito quello è l'errore che fa l'Inter però ho una sensazione qual è? la mia idea è che quando c'è Vidal è un'altra squadra è un'altra squadra cioè perché parliamo tanto di ma Cialanoglu e Brozovic gestiscono la partita perché sono due e io quando ho visto nel derby Vidal che stava entrando io francamente pensavo che entrasse al posto di Barella non poteva uscire Cialanoglu perché Cialanoglu e Brozovic stavano gestendo la partita sono d'accordo è stata una scelta onestamente per l'ammunizione ma non puoi ridurre tutto l'ammunizione a un certo punto devi anche rischiare è un derby che vale un più 5 un più 6 un più 7 quello che è cioè non puoi non puoi far così Brozovic già era andato in difficoltà con Brain Diaz tu togli Cialanoglu hai consegnato la palla al Milan per un quarto d'ora e poi no e poi hai torto anche Perisic c'è un pericolo costante qua sulla sinistra però Perisic pare gliel'abbia chiesto un indurimento muscolare in quei casi l'allenatore può anche dire gioca e non rompere le scatole puoi anche forzare un po' la mano però se si fa male poi io ho capito però insomma diciamo che era ammonito anche Perisic no Perisic non era ammonito il giocatore ti chiede il cambio lo cambia allora facciamo Filippo un riassunto un commento di questo primo tempo con gli up and down ok chiedo gentilmente alla regia la nostra musica eccola grazie allora Filippo per questo primo tempo chi è per te nella parte degli up allora Dzeko autore del gol molto bello bravo 6 e mezzo Perisic perché ha giocato molto bene ha dato anche l'assist a Dzeko per il gol del vantaggio quindi 6 e mezzo anche a Perisic se devo mettere un terzo metterei Barella perché comunque è un uomo ovunque a centrocampo è un motorino non è brillante come i tempi d'oro ma è sempre un moto perpetuo e poi con quel destro sta tremando ancora la traversa quindi 6 e mezzo anche Barella ok chi non ti è piaciuto? Vidal assolutamente il peggiore di tutti ci avrei scommesso no vabbè ma ogni volta che la palla arriva nella zona di Vidal tu hai brividi perché non sai se arriva in ritardo non sai se arriva in vantaggio non sai se fa fallo non sai se cade per terra perché è sempre per terra è tutto il contrario del giocatore che fu è tutto il contrario del giocatore che fu è il contrario è sempre un'incognita Vidal e oggi purtroppo 4 e mezzo Sanchez tanto fumo niente arrosto con calci piazzati si dà l'anima però la concretezza ci vuole per un attaccante 5 e poi il terzo il terzo è difficile perché gli altri sono stati tutti abbastanza sufficienti non metterei giù nessun altro Brozovic non è stato brillantissimo non 5 e mezzo 5 e mezzo non 6 meno non brillantissimo però tocca talmente tanti palloni passa tutto da lui non mi sembra non è il Brozovic brillante che di solito vediamo quindi tu dici se proprio dovessimo inserire un terzo tu Massimiliano giocare con a fianco Vidal non è facilissimo però a proposito di Brozovic chiedo a Stefano come va con questo rinnovo perché insomma si sentono voci sirene catalane ma sì però dovrebbe dovrebbe arrivare l'Inter è serena è tranquilla ritiene di avere raggiunto virtualmente l'accordo con Brozovic è chiaro che la situazione nella quale si trova Brozovic è una situazione delicata perché le sorprese sono sempre possibili è anche vero che mi sembra che in questo momento ci sia un clima di grande armonia tra lui e il club io francamente mi stupirei se lui andasse sarebbe un vero e proprio tradimento perché tu parli per mesi arrivi a definire un accordo l'amministratore delegato in tv dice è tutto a posto onestamente mi stupirei se se ne andasse però non ti ricorda non so se da vicino da lontano ma un po' sono le stesse parole che sentivo dire su Donnarumma dal Milan nello scorso anno ti dicevo l'ha già firmato c'è il contratto del cassetto è tutto fatto è pronto amore eterno francamente no perché mi sembra che Donnarumma avesse ormai dato indicazioni abbastanza chiare sul fatto che se ne sarebbe andato Brozovic mi dà sensazioni finora ha dato sensazioni opposte anche come partecipazione cioè con Donnarumma una trattativa vera e propria alla fine non è mai cominciata se ci pensi l'anno scorso cioè Donnarumma ha deciso di andare e il Milan ha preso atto che Donnarumma dopo aver provato a intavolare una discussione ha preso atto che Donnarumma aveva deciso di andarsene come diceva il saggio contratto è quando si deposita no no quando si firma cosa manca la firma quando c'è mi piacciono queste frecciatine che ti escono ogni tanto vale per tutte le squadre con la tranquillità di Vlaovic e Zagaria che hanno firmato il nuovo contatto quello che ti voglio dire è che se oggi ti dico Di Bala firmasse per un altro club vista la tensione che c'è stata con la Juve sarebbe è una possibilità Brozovic che tratta il contratto messaggi d'amore grande collaborazione se poi ti tradisce ecco Di Bala è un po' in una situazione stile Donnarumma stile Donnarumma sai come finiscono queste storie come finiscono Di Bala firma e l'altro non si sa però su Di Bala occhio su Di Bala è vera questa voce che si sono rincontrati l'offerta è ancora più bassa di quella di prima Stefano tu sai qualcosa non lo so io non l'ho visto perché non lo so io credo che Di Bala il rischio che corre la Juve è che arrivi qualcuno con un'offerta vera a Di Bala il rischio penso che sia un rischio che la Juve ha messo in conto nel momento in cui l'amministratore delegato ha detto quelle cose del giocatore è chiaro che tu devi mettere in conto che lui ti può anche mollare e penso che non so se se la Juve spera che lui la molli oppure oppure no però insomma e poi secondo me Maurizio io voglio chiedere anche a Claudio ma il fatto di aver preso Vlaovic di aver dato quell'ingaggio quindi di aver investito su un altro tipo di giocatore non è stato un segnale anche per Di Bala per dire cioè poi vieni a metti consigli cioè questo è quello l'impressione che ho avuto nella partita di domenica è che Morata e Di Bala siamo stati molto contenti da Di Bala ma molto ma proprio molto un po' meglio di uscire di Bala beh dal punto di vista tecnico sì dal punto di vista tecnico però dal punto di vista del cioè del contratto cioè Di Bala due conti se li fa anche lui adesso arriva questo qua per nel set io cosa posso chiedere non ho visto i miei capigli a 15 per nel set però voglio dire cioè però è l'acquisto del mercato l'uomo su cui si punta è chiaro che l'investimento è indirizzato il capocamone del campionato ma appunto gli è indirizzato lì quindi si accoltenerebbe Di Bala il contratto alla Vlaovic questa è la questione il problema è che Vlaovic lo hai acquistato Di Bala lo devi riacquistare per cui per Vlaovic hai speso 75 milioni Di Bala lo devi riacquistare perché oggi Di Bala può andare alla Juve come all'Inter come a Paris Saint Germain o a Barcellona è per tutti uguale ecco infatti a me risulta che le parti si sono incontrate l'offerta su Di Bala è rimasta la stessa da parte della Juve però mentre si discuteva delle commissioni la Juventus ha detto sì sì le commissioni ma ti ha dato una sforbiciata molto molto potente alle commissioni mi sembra un po' una situazione che era un altro calcio però di rivivere un po' la situazione di Baggio quando nel 1995 poi la Juventus mollò Baggio la trattativa era quasi più cercata dal giocatore che dal club la Juve aveva deciso di mollare Baggio è vero che all'epoca c'era il parametro per cui la Juve poi alla fine prese 18 miliardi di lire più che parametro c'era del Piero che veniva fuori sì ma c'è il parametro per cui tu lasciavi Baggio e prendevi 18 miliardi sì ho capito ma c'era del Piero che stava scendo sì no era già uscito del Piero era già uscito del Piero però non lo so a me sembra non so se la Juve ha scelto di mollare Di Bala ecco io sono convinto chiaro che è soltanto una partita quella a cui abbiamo assistito quindi ovviamente non frattessero che è una partita però sono convinto che questa seconda parte di stagione con i tre farà bene a tutti a tutti quelli che c'erano ma farà bene in che senso a livello di squadro o decisione perché adesso ognuno ha il suo ruolo cioè non è al di là di Vlaovic che è un grandissimo centravanti e non avevamo bisogno di vederlo nella prima partita con la Juve perché l'abbiamo visto anche prima però arrivando il centravanti vero Morata farà la seconda punta che è il suo ruolo Di Bala non è quello che deve risolvere la partita girando per il campo da solo ma è quello che può fare anche l'assista al centravanti secondo me faranno tutti bene ma secondo te si arriverà ad una quadra? credo di sì poi ti ripeto nel calcio vale per tutte le squadre i tifosi continuano a parlare come se fosse il calcio degli anni 60 ma il calcio di oggi è un'altra cosa quindi tutti i giocatori sono delle aziende tutti i giocatori se hanno un'opportunità la valutano allora dai noi andiamo in pubblicità pochi minuti torniamo prima anche ritmi molto bassi ora De Vrij trova sulla sinistra Persic avvicina a Sanchez ancora una volta Vidal perde la palla ragazzi mamma mia questa era una buona azione in uscita Vidal non sta in piedi ancora Mkhitaryan Vidal prova a rubargli palla Mkhitaryan va via attenzione Zaniolo sinistro fuori alla sinistra di Andanovic insomma è stata un'azione pericolosa anche questa sì il problema è che stavano andando avanti di noi è una deviazione un difensore dell'Inter ha calciato male era una buona occasione se avesse calciato bene insomma è una partita in cui l'Inter sta prendendo i suoi rischi si sta scaldando Cialanoglu sì ma qui stavamo partendo bene noi siamo usciti bene parla al piede Vidal non sta in piedi Vidal mette una gamba si blocca e deve allungarsi sta in piedi qui si ripartiva bene qui era tutto giusto boh allora si sta scaldando Cialanoglu secondo voi su Vidal? lo so sai penso di sì penso di sì altrimenti vuol dire fare il contrario di quello che dice la logica Sanchez stavolta arriva bene sul pallone Dzeko trova Vidal mamma mia ragazzi no ma Vidal non è presentabile però cioè non è presentabile ha bloccato lui l'azione era tutto giusto anche stavolta non è lo vedo solo io che non sta in piedi? no sta giocando la partita pessima pessima io stavo dicendo disastrosa ma comunque siamo sulla stessa lunghezza d'onda il cambio lo farà al sessantesimo come al solito il sessantesimo ci siamo arrivati Mancini si avvicina all'area di rigore allarga per Karls la posizione di cross arriva al cross lunghissimo Vigna la rimette in mezzo chiedono la palla fuori infatti è così siamo all'ora di gioco 1-0 per l'Inter gol di Dzeko in apertura vediamo se ci sarà il cambio Cialanoglu si stava si stava almeno si stava scaldando non si stava ancora togliendo la tuta però lì in mezzo urge anche perché l'Inter adesso un paio di volte stava orchestrando bene per ripartire e riuscire a cogliere in preparata la Roma e poi c'è stato Vidal che ha bloccato due volte la nostra azione allora possiamo dire se nelle premesse dopo gli inizi sembrava chissà che tipo di partita saremmo andate a vedere che man mano che il tempo va avanti è cambiato insomma si scende sempre di più di livello sì mamma mia Dzeko mamma mia Dzeko dalla palla a Mkhitaryan poi devrai commette il pallo che ora è diventata una partita brutta possiamo dire Filippo possiamo dire una partita brutta sì sì no ma brutta da entrambe le parti però insomma voglio dire no brutta a livello tecnico nel senso che ci sono tanti errori poi la partita per uno che la guarda potrebbe anche essere piacevole sono occasioni da una parte occasioni dall'altra il ritmo un po' lentuccio effettivamente però è brutta perché sbagliano tantissimo adesso Dzeko ha sbagliato il passaggio e facciamo proprio fatica la Roma prende i regali dell'Inter con gli errori in impostazione e prova a ripartire vediamo ora la Roma con Zaniolo che prova a girarsi c'è il raddoppio ma Zaniolo prova ad andare via a sinistra bravo D'Ambro a rubare palla poi recupera Barellino si lamenta Zaniolo perché vorrebbe il fallo non lo fisca l'arbitro poi trova un ottimo corridoio D'Ambroso sulla destra per Darmian Darmian avanza mamma mia dà la palla Sergio Oliveira ma cosa fate ragazzi gli ha regalato la palla ancora ma anche questo rinvio dopo il crozzo insomma io vedo sembra una partita diciamo di livello di livello scadente adesso possiamo ancora una volta l'Inter regala palla la Roma Ebra in area di rigore ma ancora Sergio Oliveira prova al destro deviazione Andanovic in corner boh non lo so cioè ho sentito dei sospiri accanto a me è un po' di delusione da parte di entrambi possiamo dire che comunque questo livello ha delle caratteristiche che ce l'ha sai cos'è che quando entri nel tunnel della partita brutta è difficile uscirne sì però sono tutti e due che sono nel tunnel e quello è il problema corner per la Roma dalla sinistra avere tu col destro arriva il cross sul primo palo di testa Skriniar alza la traiettoria avere tu la ributta in mezzo Darmian spazza poi Mkhitaryan palla che è in area di rigore va giù Darmian dovrebbe esserci fallo infatti è così respiriamo fallo per l'Inter calcio di punizione abbiamo rischiato con questo tiro di Sergio Oliveira deviato dalla schiena di Brozovic la palla si impenna sta andando sotto la traversa Andanovic con la mano di richiamo mette il pallone in corner vista la deviazione non era facile la parata di Andano ci diamo a Cesare quel che dice lo sguardo non poteva prendere godo ecco lo sguardo Filippo non poteva prendere godo ho detto vista la deviazione perché comunque la deviazione ti cambia totalmente la traiettoria anche perché il tiro di Rivera secondo me andava alla bandierina del calcio d'angolo Massimiliano quello che è strano di Andanovic perché mi è capito nel derby che lui parlasse di questo genere invece di andare con la mano destra lui va con la mano sinistra che non capisco ma con la mano opposta che è una roba particolare Claudio secondo te come mai questo cambio? perché si spinge di più no non sto scherzando no 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 l'ho chiesto io anche una volta al preparatore dei portieri perché tanti portieri lo fanno molto bene ah glielo hai chiesto proprio tu? Sanchez Sanchez limite l'area di rigore Sanchez la tira in porta prova la palla per Darmian poi Barella un destro bellissimo ancora una volta di Barella dai 35 metri Rui Patrizio si butta sulla sua sinistra e questa è una gran parata e mette in corner è un gran tiro anche un gran tiro perché era lontanissimo Barella qua Barella ha fatto tutto lui ma ma che tiro ragazzi ha fatto tutto lui e poi quel destro è bellissimo il più curioso è la parata a due mani in questo caso rispetto a quella di prima eh sì bravo Rui Patrizio bravo Barella corner parte Sanchez arriva al cross sul secondo Doppolo mette fuori la Roma poi riparte Sergio Oliveira ma poi Brozovic di testa va a servire Barella che in scivolata tenta di rimediare al passaggio brutto di Brozovic ma c'è Mkhitaryan che trova il corridoio per Zaniolo esce Andanovic lo supera Zaniolo porta vuoto il sinistro sulla linea salva Skriniar sulla linea salva Skriniar tutto inutile sulla linea salva Skriniar mamma mia ragazzi ha fatto una grande cosa una grande cosa aveva fatto sì infatti è il giocatore più pericoloso della Roma la posizione di Zaniolo era impossibile adesso lasciamo perdere fuori gioco eh non lo so sai ma sul tiro era praticamente secondo me è stato bravissimo scriniar ha fatto un miracolo ma bravissimo Zaniolo che prima salta Andano meglio il rimpallo lo favorisce poi col sinistro trova la porta da una posizione impossibile Scavalka Perisic che si era messo sulla linea comunque era fuori gioco di Mkhitaryan Skriniar tornando indietro con la torsione del collo salva la palla che stava andando in porta ma sarebbe stato un gol annullato perché era fuori gioco di Zaniolo certo se faceva questo gol che era ancora un grande gol ebbè ho capito però era fuori gioco era fuori gioco c'era eh quindi che devi fare però voglio dire insomma forse Molinio avrebbe detto ascolta che la Roma che la Roma non ha potere per questo fischiano e sono un po' piccoli a Juventus Barcellona di Champions a Morata gli hanno annullato tre gol per un unghio non si muove nessuno siamo aperti comunque continua a correre dei rischi l'Inter ah beh assolutamente sì ma non c'è movimento anche in mezzo al campo adesso Brozovic portava palla ha allargato le braccia perché non si muoveva nessuno ci vuole ci vuole il movimento di Ciala lì in mezzo che aiuta Brozo Barella dalla destra può provare il cross arriva il cross agliato troppo forte spazza la Roma ancora Oliveira lancio lungo scavalcare il centrocampo a cercare Abram di testa De Vrij in anticipo serve Perisic sulla sinistra ancora Ivan punta Carsdrop Perisic va verso l'interno si accentra può provare il destro chiede l'1-2 a Sanchez è troppo pretenzioso poi c'è fallo di Perisic qua Sanchez anche qua capisco l'idea dare l'1-2 però Ers lo liberato bene poteva anche provare a tirare allora dai con questo andiamo in pubblicità restate con noi dare tira Sanchez Sanchez un gol bellissimo del Nino meraviglia 2-0 per l'Inter una sassata con il destro sotto l'incrocio dei pali dei 30 metri non ci arriva Rui Patrizio una sassata del Nino meraviglia Alexis Sanchez 2-0 per l'Inter che grande gol bravo Alexis dai dai ragazzi dai Filippo grande gol un gol bellissimo Sanchez sia nella preparazione e ovviamente soprattutto nella conclusione Sanchez tre quarti di sinistra riceve palla all'uomo che gli viene incontro gli va addosso con l'interno destro riesce a spostare il pallone a superare l'uomo a portarsi la palla ancora per tirare sul destro un colpo fantastico collo pieno in diagonale sotto l'incrocio Lui Patrizio non ci può arrivare un gol Filippo in che minuto siamo? Adesso siamo al 71esimo minuto lui ha segnato al 69esimo Allora un 2-0 che insomma adesso vediamo se l'Inter si tranquillizza come visto che avevamo sottolineato più di una volta che forse la tranquillità era diciamo quello che mancava una squadra come l'Inter Beh sì ora dovrebbe tranquillizzarsi ha due gol di vantaggio sono un grande vantaggio francamente mi aspettavo che Mourinho provasse a cambiare qualcosa prima però evidentemente vorrà dire poi che lui non ha cambi e mi aspetto che lo dica alla fine della partita che la Roma ha un organico debole che non ha cambi che l'Inter è di un altro pianeta e così metterà darà la colpa Io mi immagino che dire la Roma ha fatto la partita che poteva fare abbiamo rischiato anche di fare direbbe la verità poi l'Inter è più forte insomma se finisse così io penso che che lui dirà guardavo la panchina dell'Inter e c'erano Lautaro Martinez eccetera e invece nella mia non c'era nessuno anche perché lui non li fa giocare Darmian ruba palla Darmian bravissimo ma come fai ma come fai fai a finire sto fallo ma perché va bene gli ha dato gli ha dato fallo ha fatto dei cambi Inzaghi no quindi ha smentito un po' se stesso Inzaghi per forza dal giorno del derby che tutti dicono cambia il sessantesimo cambia il sessantesimo che prima Massimiliano non cambia Claudio che cosa ne pensi tu invece che non cambia fino alla fine ormai mantiene vince due a zero invece aggiungo una previsione che a quello che prevedeva Stefano su quello che potrebbe dire Murino a fine partita e infatti io questo ti volevo chiedere secondo me potrebbe anche dire dal tono della sbloccata subito Dzeko che ah no era il nostro giocatore che era regalato noi è vero potrebbe pensare ma dici che addirittura così potrebbe eh potrebbe comunque insomma voglio dire manca ancora un quarto d'ora al termine della partita può succedere ancora di tutto siamo sul 2-0 non è colpa sua neanche stasera quello è sicuro Massimiliano tu vuoi aggiungere qualcosa anche tu una versione no su Murino nel senso che è andato a Roma per ricostruire la squadra effettivamente adesso i risultati si stanno vedendo attenzione cross di Carsdrop D'Ambrosio anticipa benissimo Zaniolo ottimo il cross di Carsdrop attenzione che la Roma è ancora in avanti buono l'1-2 tra Brozovice e Barella che ora può andare via sulla destra anche se siamo ancora nella nostra metà campo aspetta il movimento di qualche compagno prova il lancio per Dzeko c'è la chiusura di Cumbulla che però è assolutamente imprecisa guadagna un fallo laterale l'Inter ma ottimo il cross di Carsdrop dalla destra bravissimo D'Ambrosio ad anticipare Zaniolo proprio lì nei pressi della linea di porta intanto stiamo rivedendo il gol di Sanchez che sia nella preparazione che nel tiro ha fatto tutto perfettamente c'è solo un gol del genere vale 8 in pagella per me ah quindi ci ha già detto beh non lo so come finirà la partita però questo qua è un gol è un gol pazzesco che bello che chiude la partita poi l'importanza di questo gol perché la partita chiude la partita lo diremmo fra una quindicina di minuti circa ma quanto manca 16 minuti più recupero 16 minuti più recupero noi lo diciamo spesso dopo il settantesimo c'è un'altra partita si stai assecondando la scaramanzia di Filippo in questo per ora no io ti dico la verità stavo già pensando alle partite di domani penso che facciano come ha fatto la Roma con noi che ha preso 4 gol in 3 minuti allora ti stai già portando per i partiti di domani visto che mi sto portando avanti a Massimiliano che tipo di partita possiamo vedere tra Milano e Lazio visto che è bello contento tranquillo Massimiliano torniamo da te adesso puoi entrare quasi anche te in tensione pre partita con l'abbrivio con l'abbrivio della vittoria del derby io credo che il Milano debba assolutamente vincere anche perché la compitazione deve essere un obiettivo e quindi io credo che domani si debba vincere ha detto che è la competizione più arti sportiva del mondo e allora non ci crede quindi andiamo fiduciosi domani assolutamente sì però per la Lazio cioè Sarri l'avrà mollata però per la Lazio è comunque un trofeo importante comunque ha abbastanza ragione quando dice questo Sarri perché dice che non sa chi fa i sorteggi no dice che è una competizione però quando era la Juve non lo diceva è una competizione che è fatta apposta per portare in fondo ma è vero le prime rispetto alla entra l'autaro a come sono le coppe ad esempio in Inghilterra questa è sicuramente antisportiva ma questa è sempre però è stata così sì appunto ha provato un anno quando Milano è arrivato in finale con l'Alessandria il Fornipopoli ma non guardava nessuna partita corner per la Roma quello è il problema però corner per la Roma quando nell'Inter sta per entrare l'autaro ma credo che si rimanderà dopo il corner perché credo sarà Geca a uscire ce ne ha due Perisic ragazzi Vidal ma cosa fai la cross Andanovic traversa della Roma fallo su D'Ambrosio ma Andanovic era andato a farfalle poi Abram a porta vuota aveva preso la traversa però Andanovic cacchio è andato cioè ragazzi ma spiegatemi dove è andato Andanovic qua c'è la spinta di Abram però c'era una spinta molto lenta però Andanovic è uscito a vuoto è uscito a vuoto Andanovic completamente entra Lautaro esce Geco però ragazzi Andanovic vedete ultimamente un po' per vagabondaggio in effetti potrebbero restare perché ma veramente a me incuriosisce molto il fatto che la Roma non cambi cioè ma a parte tutto ma come fai secondo te perché Stefano non mi aspetto di vedere cosa dice Mourinho alla fine per capire perché Vigna è entra ora il Sharawi è 10 minuti alla fine ma il Sharawi ti ha dimostrato contro il Genoa contro il Genoa veramente ha cambiato volto alla partita il Sharawi e come fai a non metterlo Vigna sta lì stai perdendo Stefano però scusa Stefano però fino al gol che si è inventato Sanchez cioè la Roma stava giocando bene perché doveva cambiare stava giocando bene mi sembra no nel senso dava l'impressione di poter trovare il gol perché Sanchez ha trovato il gol che se l'ha inventato cioè non è che dici con la manovra ma cosa ha fatto la Roma nel secondo tempo tu hai in mente una parata di Andanovic no vabbè però c'è l'azione di Zaniolo ma anche l'Inter non ha fatto niente a parte se questa stazione si è inventato cioè se si fa niente a niente è meglio per chi vince che per chi perde è chi perde che deve provare a cambiare la partita lui secondo me era contento della Roma e pensava di potercela fare con questa formazione poi dopo Sanchez ha sparigliato con un gol eccezionale perché si è inventato io penso che penso che tu debba provare a cambiare se sei sotto e se hai le armi in panchina e se non devi dire alla fine che non hai armi in panchina perché come fai Vidal sulla sinistra linea mediana va in verticale a cercare Sanchez si gira il cileno attaccato alle spalle da Smolling o meglio curato alle spalle da Smolling Vidal trova un ottimo corridoio questa volta orizzontale per Barella tra le linee tre quarti centrale Barella aspetta la sovrapposizione di D'Ambrosio gli serve il pallone D'Ambro va a cercare Lautaro anticipato palla che finisce però sulla fascia di destra D'Armiana ancora Barella limite l'area di rigore di fronte cristante attenzione al velo perfetto di Lautaro Lautaro ancora col destro prova quello che ha provato Sanchez poco fa dal limite dell'area di rigore la palla si alza un po' troppo va alto sopra la traversa qua Vidal che ha suggerito con l'esterno destro e poi il destro di Lautaro alto sopra la traversa l'area va a puntare Skriniar palla sul sinistro si libera per il sinistro l'ex primavera dell'Inter deviato da Skriniar saranno proprio quattro i minuti di recupero concessi da Di Bello sono già passati trenta secondi il Ciarau è all'indietro va a cercare con Bulla prova il pressing Lautaro sbaglia tutto con Bulla ripartiamo con Lautaro si butta nello spazio Sanchez o meglio non ce la fa più a buttarsi poi Lautaro prova a far passare la palla in mezzo a due poi arriva Ciala ruba palla con un fallo secondo Di Bello e allora calcio di punizione per la Roma 90 minuti 45 secondi sul cronometro ancora 3 minuti e 10 da giocare Brian Cristante nella sua metà campo posizione centrale allarga per Mancini ancora Mancini all'indietro per Smalling Smalling per Combulla sulla sinistra supera la mediana il numero 24 poi si prende la palla Pellegrini che prova a puntare Vessino nell'uno contro uno poi cambia tutto dall'altra parte per Mancini nella metà campo nero-azzura cerca Mkhitaryan che perde il tempo poi Vessino ruba palla subisce fallo bravo bravo Vessino calcio di punizione per l'Inter nella nostra metà campo posizione centrale rivediamo bravo Vessino anticipare Cristante che allunga il piede destro e tocca la caviglia dell'Uruguaggio intanto rivediamo il cross di prima di Zaniolo il petto pieno di Skriniar sul cross dell'ex Primavera Nero-Azzurro 91 minuti 35 secondi 2 minuti e mezzo al termine della partita ancora Brozovic all'indietro per De Vrij che allarga per D'Ambrosio ancora De Vrij che ha una palla largo Skriniar ma De Vrij preferisce dare all'indietro per Andanovic Andanovic c'è manovra all'interno della propria area di rigore c'è il pressing di Pellegrini Andanovic allarga male per D'Ambrosio interviene Cristante tocca il pallone ma non riesce a tenerlo in campo fallo laterale a favore dell'Inter 120 secondi alla fine di questo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma San Siro 92 minuti 5 secondi c'è Dumfries pronto a battere la rimessa con le mani si avvicina Brozovic la palla però è per Lautaro Lautaro tira addosso a Mkhitaryan fortunosamente che tiene il possesso ancora Vessino e a Terra Sanchez dopo un colpo ancora Vessino Dumfries sulla destra attaccato da El Sharawi va giù Dumfries calcio di punizione per l'Inter calma ragazzi calma c'è frega di far veloce a noi manca un minuto e mezzo 2 a 0 la tieni lì la palla no? Dumfries attaccato alle spalle da El Sharawi calcio di punizione per l'Inter vediamo un po' già battuto palla all'indietro per Dumfries scusate per De Vrij sempre olandese ancora Skriniar c'è a Fena Ghian che prova il pressing palla alta di Skriniar cercare Cialanoglu alla meglio Mkhitaryan che poi serve in orizzontale cristante che prova il lancio sulla sinistra cercare Carsdrop in anticipo Skriniar che mette il corpo protegge il pallone attaccato da Carsdrop bravissimo Skriniar a tenere il possesso fallo laterale però è per la Roma secondo il Guardialine che era lì a un metro ancora Mkhitaryan orizzontale bravo Lauti a rubare palla ancora Roma in possesso mancano 45 secondi alla fine della partita Mancini finta su Lautaro verticale a cercare Pellegrini che si avvicina l'area arriva al passaggio filtrante D'Ambrosio mette fuori dall'area poi Brozovic attenzione alle spalle Brozo cerca verticale per Sanchez che si gira benissimo su con Bulla passala lì mamma mia quando mi fa arrabbiare Sanchez in ste cose Cialivesino D'Ambrosio ruba palla Fena Ghiana aspettiamo solo la fine 20 secondi al termine Brozovic cambia tutto sulla sinistra per Cialanoglu Cialanoglu va a puntare Mancini palla vicino al destro ora si sposta la palla sul sinistro 15 secondi alla fine numero di Cialanoglu che va via poi subisce fallo calcio di punizione no secondo l'arbitro si va avanti fischia alla fine l'arbitro 2 a 0 per l'Inter che si qualifica per le semifinali di Coppa Italia torna a vincere dopo la sconfitta nel derby e già solo questo è importantissimo senza subire gol batte la Roma batte Murigno e si qualifica per le semifinali non c'era modo migliore di cercare di dimenticare il derby e approcciare la partita importantissima con Napoli sabato bravi allora il 2 a 0 è tutt'oro quello che luce nel senso che era chiamata l'Inter a rispondere della sconfitta lo ha fatto vittoria passaggio in semifinale però insomma con una partita non eccezionale non eccezionale però stasera per l'Inter contava vincere e ce l'hanno fatta devo dirti che poi alla fine hanno un po' rischiato sugli 1 a 0 non hanno giocato una bella partita anzi hanno giocato una partita tecnicamente brutta che voto daresti? beh no comunque quando vinci 2 a 0 senza rischiare molto io penso che l'Inter 6 e mezzo lo meriti ha giocato è partita molto bene è andata in vantaggio dopo un minuto poteva raddoppiare poi ha forse si è fatta prendere un po' dall'ansia forse dalla paura ha sbagliato tanto nella parte centrale dell'incontro però francamente se ti dovessi dire che in alcuni momenti l'Inter si è andata in balia della Roma questo no la Roma ha avuto delle occasioni però l'Inter alla fine ha vinto con merito credo su quello non ci siano dubbi due gol un incrocio dei pali due parate tutto racchiuso quasi tutto racchiuso nella prima parte d'ora però se tu vedi insomma vedi anche i numeri ecco lo qua che con il tabellino a mio avviso a volte nel calcio ingannano però cinque ti rimporta uno la Roma ha tirato una volta in porta è difficile fare gozze non ti rimporta hai capito per cui alla fine credo che il risultato sia giusto sia giusto sì Claudio Massimiliano un commento su questo risultato no sono d'accordo il primo quarto d'ora faceva pensare a una partita diversa poi nel secondo tempo si è un po' equilibrata però il trend era c'è la sensazione non era che la Roma potesse poi risolvere e devo dire che per come aveva cominciato l'unica cosa che deve preoccupare l'Inter è che è l'Inter che rimette in gioco sempre l'avversario cioè questo è un leitmotiv di queste ultime partite nel senso non è mai stata dominata forse a parte con l'Atalanta forse in casa che l'Atalanta aveva aggredito molto l'Inter però è sempre l'Inter che riesce o sbagliando o giocando sotto ritmo e questo si è visto anche in classifica o abbassando i ritmi a fargli entrare in partita l'avversario e questo per me deve preoccupare se l'Inter non gioca sempre a una certa intensità abbassando l'intensità a fargli entrare in partita Filippo ci deve lavorare l'Inter sul killing instinct cioè sull'istinto killer ma oggi non credo sia un problema di killer instinct perché l'Inter oggi ha fatto fatica a costruire nel primo tempo ha sbagliato tanto in impostazione cioè quando si parla di killer instinct è che tu magari costruisci tanto arrivi davanti alla porta 5-6 volte fai un gol e tieni vivo l'avversario che poi magari con un episodio pareggia quello è il problema però nel primo tempo questo c'è stato perché l'Inter ha fatto quelle 4-5 azioni da gol ne ha tradotta una e ha rischiato con Zaniolo con Abraham no capito però ragazzi bisogna mettersi d'accordo se il killer instinct è io tiro da 30 metri prendo la traversa dovevo fare gol no se il killer instinct è io faccio tiro un calcio d'angolo di testo l'uomo davanti la prova prende la palla va a centrale il portiere fa così no cioè il primo tempo l'Inter ha tenuto il pallino del gioco nei primi 10 minuti ha fatto gol ha preso una traversa poi non è che ha sbagliato 3 gol davanti alla porta che dice colpa tua che non l'hai chiusa no non è riuscito a costruire azioni la Roma altrettanto perché la Roma ha avuto quelle due occasioni su quelle due palle perse dall'Inter però oggi non è questione di killer instinct oggi è questione di ripulire alcune giocate per me che potevano portarti a creare delle occasioni e invece non le ha create quando l'Inter ha segnato il secondo gol poi la Roma ha abbassato molto il ritmo il pressing eccetera l'Inter usciva a pala al piede che era una meraviglia poi non è l'Inter di novembre dicembre però già era diverso era più tranquillo e Andanovic no non fammi parlare di Andanovic ti prego dai che poi tra poco faremo gli appendici perché qualche brivido te l'ha fatto venire lungo la schiena ma l'anno prossimo è un'ana puoi stare sereno mi sembra l'abbiamo visto anche in Coppa d'Africa va come il sorriso ha fatto la battuta ti ha fatto la battuta ma capita la cavolata capita anche a Neuer quindi non è un preoccupante però meglio avere Neuer che Onana sicuro ma Neuer lo paghi 100 milioni di euro Onana no io credo che chi ha visto Onana giocare anche gli anni precedenti passati con l'Ajax che ha fatto una semifinale di Champions eccetera abbia visto che è un giocatore un portiere con delle potenzialità interessanti che poi vada sgrezzato e io credo che ci penseranno da piano gentile però è uno che ha già fatto presenza in Champions League ha fatto una semifinale di Champions che è reattivo tra i pali che è bravo nelle uscite poi ha fatto una cavolata enorme in Coppa d'Africa questo è vero non vorrei dire ma l'affare è vero se parliamo di portieri l'ha fatto il Milan no assolutamente sì non se l'aspettava forse nessuno non ci aspettavamo un portiere effettivamente così completo e che ci facesse perdere così meno punti di quello che ci aspettassimo no un fenomeno no però avendo perso tu all'inizio eri un po' diffidente Massimiliano sì perché non lo conoscevamo c'è un suo sfido chiunque a dire che fosse un grandissimo portiere o che poi potesse avere questo rendimento perché effettivamente ha vinto in Francia ma non lo conosce nessuno adesso è arrivato al Milan che invece arriva secondo il campionato è un fenomeno sì però Claudio il campionato francese il campionato francese sappiamo tutto che non è il campionato di un coefficiente direi ti chiederei Filippo sì adesso Napoli Liverpool sì ci va più serena l'Inter più tranquilla oppure insomma questa partita non ha tolto completamente tutti i dubbi no io io credo che questa vittoria al di là della qualificazione alle semifinali sia molto importante per spezzare un po' diciamo i pensieri negativi che arrivavano dal derby cioè se oggi l'Inter avesse perso oppure fosse uscita anche con un pareggio se fosse uscita la Coppa Italia non avesse giocato bene avesse subito dei gol insomma due di fila prima del Napoli già il derby ti ha tolto qualche certezza già il Venezia forse al novantesimo ti aveva tolto qualche certezza magari entri in campo col Venezia pensi di vincere 4-0 poi ti trovi a dover segnare all'ultimo minuto il gol della vittoria perdere anche oggi una partita giocata o un'uscita dalla Coppa anche magari rigori per dire anche oggi sarebbe stato un bel problema a livello psicologico per me giocare in casa con la Roma vincere qualificarsi per il prossimo turno non subire gol fare due gol con gli attaccanti anche questa è una cosa che da sottolineare è una novità delle ultime giornate nelle ultime giornate credo che sia un buon reset per la testa in vista del Napoli